ciao ragazzi sono saffa come va oggi vi proporrò un ennesimo giochino barra trucco matematico con il quale riuscirete sicuramente a sorprendere i vostri amici o compagni di classe ma andiamo subito al gioco pensate ad un numero di quattro cifre 1 2 3 4 1 7 8 9 qualsiasi numero che sia composto da quattro cifre bene scrivetevelo su un pezzetto di carta oppure utilizzate direttamente una calcolatrice perché è molto probabile che ne avrete bisogno anzi sicuramente quindi inserite nella calcolatrice due volte questo numero al quale avete pensato immaginiamoci che avete pensato a 1 2 3 4 quindi scriviamo dentro la calcolatrice 1 2 3 4 1 2 3 4 se avete pensato invece a 7 4 8 9 scriveremo 7 4 8 9 7 4 8 9 sulla nostra calcolatrice secondo passaggio dividiamo questo numero appunto di otto cifre per 137 quindi questo numero creato dal da quello che avete pensato scritto due volte diviso 137 e vediamo appunto quello che vi viene io questo risultato non lo conosco però andiamo ad un passaggio successivo che sicuramente vi sorprenderà questo risultato che appunto vi è venuto dividiamolo ora per il numero iniziale che avete pensato quindi non le otto cifre ma le quattro cifre iniziali dividiamolo per questo numero e attenzione concentriamoci sul risultato che ci da la calcolatrice pensiamoci focalizziamoci bene su questo numero e io sono sicuro che il risultato finale sia 73 molto bene ragazzi spero che questo gioco matematico vi sia piaciuto se è così spolliciata più non posso fino ad arrivare possibilmente a 15.000 like dopo dei quali pubblicherò la soluzione di questo gioco appunto il tutorial se vogliamo dire così iscrivetevi al mio canale e non mancate il mio prossimo video che sarà domani ciao ragazzi sabfab ciao